Il sabato 4 febbraio ci troviamo al campo sportivo di Miglianico per la gara, per l'ultima gara del girone di andata del campionato provinciale girone unico di Chieti, giocheranno il Miglianico calcio contro la Virtus Castelfrentano, stanno riscaldando il gruppo dei titolari che partiranno ecco vediamo Teddy, mister, a quest'altro lato c'è il gruppo dei ragazzi che partiranno dalla panchina, abbiamo Nicolò col numero 16, abbiamo col numero 15 Enrico, col 13 abbiamo Manuele, abbiamo Filippo col numero 18, col numero 17 Caran, col numero 12 Massimini e col 14 Luca, da quest'altro lato abbiamo il nostro numero 7 Lele, Gianluca con il numero 9, Michele con il numero 10, ripeto numero 10, numero 11 Teddy, abbiamo Pitbull Lorenzo con il numero 6, col numero 6, con il numero 2 abbiamo Alessio, col numero 5 Federico, abbiamo Nicola in fondo, con il numero 6, con il numero 6, con il numero 4 c'è Guido, in porta il grande Matteo